Assoarma con tutte le associazioni d'arma di Sciacca, anche quest'anno è presente alla processione della Madonna del Soccorso, ma garantisce la propria presenza con ogni singolo gruppo, anche a tutte le manifestazioni ufficiali che si svolgono in città e in particolare alle funzioni religiose. Vito Sclafani, che è il presidente emerito dell'Associazione Mariana d'Italia, il gruppo Perez di Sciacca, la vostra è una presenza sempre costante e c'è sempre un accordo per garantire proprio un punto importante in queste occasioni? Sì, noi diciamo che viviamo nel territorio comunale, quindi siamo molto attenti a queste manifestazioni e soprattutto vogliamo continuare nelle tradizioni dei nostri predecessori, quindi in particolar modo per questa particolare funzione molto attesa da tutti noi, insomma dopo due anni la Madonna va in processione e noi tutti come associazione d'arma, ma singolarmente come ogni socio delle varie associazioni, quindi l'Associazione dei Carabinieri, dell'Associazione della Guardia di Finanza e della Polizia d'Estata, i marinaie comprese, attentiamo e viviamo insomma veramente con molta ansia questa manifestazione, appunto dopo due anni insomma partecipiamo attivamente come lo abbiamo fatto anche in passato. Ecco, giustamente accennava anche il fatto che la processione da due anni e mezzo non si svolge. Da Saccense, come vive questo momento e come a suo parere lo sta vivendo la città, questo avvicinamento alla processione? Sì, ovviamente è un evento molto atteso, nel senso che abbiamo, come tutte ovviamente, abbiamo vissuto questo particolare momento di disagio e volevo fare un accendo per quanto riguarda le nostre associazioni, che durante tutto questo periodo di oscurità, definiamolo così, le nostre associazioni sono state presente e soprattutto sono state vicine alle persone più debole e portando degli aiuti anche a casa, tipo genere alimentare, medicine e quant'altro. Cioè la nostra associazione, le nostre associazioni hanno sempre cercato insomma di fare qualcosa per il sociale e come dicevo poco fa, appunto per aiutare i più bisognosi. In questa particolare occasione è come una rinascita, quindi vogliamo esternalizzare tutto quello che c'è da fare, quindi vogliamo compartecipare e vivere attivamente questa manifestazione. Bene, noi ringraziamo le associazioni d'arma che in questa compartecipazione, come diceva Vito Sclafani, hanno accettato di organizzare assieme a Risoluto.it la diretta della processione della Madonna del Soccorso del giorno di Ferragosto a Sciacca, quindi con il collegamento a partire dalle 18.45 per poi seguire tutta la processione con la vara fino al rientro nella Basilica della Madonna del Soccorso e poi sulla organizzazione della diretta naturalmente vi comunicheremo tutti i dettagli nei prossimi giorni.